Buongiorno a tutti, sono Federico Vedani. Oggi vi mostro come realizzare una tartelletta ai frutti rossi. Anziché utilizzare una classica pasta frolla, utilizzeremo le tartellette cup di Dobla. Sono delle tartellette di cioccolato fondente da 7 cm di diametro che per cui ci agevolano nella produzione di questo dolce e ci danno anche comunque sia un gusto aggiuntivo in più di cioccolato fondente. La prima farcitura sarà una farcitura a base di una crema di frutti di bosco. Questa crema è la Choco Cream Crunchy Frutti Rossi. Quindi una crema anidra per cui priva di acqua a lunga conservazione realizzata con il succo filizzato dei frutti di bosco con delle piccole inclusioni di frutti di bosco all'interno per cui sarà morbida e cremosa, naturalmente colorata di rosa con un bel sapore fresco di frutti rossi. Realizziamo il secondo strato con dei ciuffi un po' alti di crema pasticcera realizzata precedentemente con il Top Cream. Terminiamo il dolce decorandolo con una Butterfly Dobla per cui una decorazione in cioccolato fondente puro che assomiglia a una farfalla che va ad adagiarsi sulla nostra bellissima tartelletta di frutta fresca.